allora oggi al nostro hot corner qui al cinemino chi vi abbiamo no dico chi vi abbiamo portato sidney sibilia ciao ciao a tutti come va c'era mai stato no no qua no bellissimo bellissimo sì 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 ma perché voi vedete solo qua ma qua c'è un bar un parrucchiere e sotto c'è la sala peteria di shining c'è di tutto c'è una roba fatta bene figo ma allora perché sidney qua perché sidney qui perché oggi esce mix bayeri il suo nuovo film posto di bellissimo non ti offendi no ma no devo dire siamo qua pubblicità bellissima grande film grande fila grazie poi parte subito neutral jackson five che non so quanto si dissona quando vi sono costati allora guarda i jackson five vera da sceneggiatura no perché lui poi nel film dice jackson five se non è che facciamo buttiamo tutto e pensavo in realtà è che jackson five costano meno di michael jackson ok cioè coi fratelli paradossalmente il prezzo si è capito perché no quello è perché è l'idea di un bambino prodigio che ascolta un altro bambino prodigio capisce che può emularlo che ero modo che tra l'altro si vedendo mix bayeri nella prima cosa che viene in mente a parte il ritmo bene quello sono abituato i film ritmo con un sonoro montaggio fantastico è come ti è venuto in mente non tanto l'idea per immagino che sia una cosa che che tornava ma se ti sei preoccupato del renderlo perché è difficile poi rendere questa cosa che è tra la metà tra i love radio rock e blow secondo me mi ha fatto venire grazie no in realtà è difficile perché dentro una storia piena ci sono tanti film cioè è che tu poteva essere un dramma che si poteva essere ma io ci provo sempre io provo a fare film quando mi sono seduto con armando festa con capito scritto il film di termine faccia un film per una volta serio proprio è un bel drammone poi lo finiamo lo rileggo dico ma cazzo un'altra commedia ma non riusciamo a fare le cose se no è un diciamo che ci abbiamo messo un paio d'anni a scrivere la sceneggiatura perché bisogna quando prendi la vita vera che è molto lunga quello che per noi è un'ora e cinquanta per i veri frattasi per i veri personaggi sono anni di vita e quindi devi fare da una parte un riassunto cercando di condensare passare al sedaccio le cose che ti interessa raccontare quello che mi interessa raccontare ma alla fine era un ragazzo che nasce in un posto dove non ci sono tanti dj e lui vuole fare il dj che è la forcella degli anni 80 napoli negli anni 80 che è un ragazzo che che cerca di evadere e di fuggire dal suo futuro tra virgolette ma per lui si vede in un modo entra tutti intorno certo certo in un punto in un posto in un momento storico in cui diciamo cioè da una parte la povertà estremi ma dall'altra una vita vogliamo dire criminale o paracriminale quindi devi scegliere tra queste due cose invece lui trova una terza via che è quella che lui chiama del dj in realtà poi insomma la cosa sfugge di mano e diventa la pirateria musicale che prima non c'era manco il termine prima di mixed by e arrivi non c'era infatti dopo erano dei garaibi e poi da allora grazie a queste cassettine qua abbiamo una c'era la gaggetteria i gadget no ma anche la cassetta è brandizzata con tutte le robe dentro cuffiette c'è tutto e questa nasce il termine il ma dentro c'è ci sono le canzoni proprio dentro c'è la canzone inedita di liberato che stella che chiude il film quella che chiude il film la potete sentire solo a voi su cassetta per certo punto uscire su spotify credo oggi domani ma i tre ragazzi sono fantastici come lei prese che anche lì era un punto chiave se ne sbagliati uno di tre è quello è complicato cioè abbiamo fatto poi tipo un anno di provini per cercare più che a parte all'inizio parte la discriminazione quella territoriale vabbè a napoli sono tutti bravi i primi provini disastri non li troveremo mai perché poi faccio un tipo di cinema forse anche molto scritto quindi c'è bisogno di attori tecnici evolutamente scelto però attori non conosciuti o evolutamente molto giovani ma che ci vuole tempo per diventare conosciuto se c'è di 18 anni è complicato essere con le colchino noti sì sì no di mare fuori o comunque tutto quel filone lì si era era due anni fa però anche loro avevano fatto delle esperienze insomma quindi a un certo punto cerco cioè ci rendiamo conto che siamo proprio degli attori attori tecnici e trovi a question dei passaggi proprio parlatissimi si è tutto parlatissimi e è un film che volevo fare in maniera analogica perché parlava di un'epoca analogica quindi ci sono un sacco di scene soprattutto quando sono loro tre che parlano loro tre in maniera quasi teatrale quindi sono loro che devono lasciarsi delle pause e loro sono di una bravura estrema però non era non servivano solo tre attori ma tre attori che sembrissero fratelli e noi poi a un certo punto per ampliare la fratellanza con la scusa del covid perché c'è la stanza del covid diciamo voi ragazzi non potete prendere il covid e li abbiamo chiusi tipo tre mesi in casa a convivere insieme quindi sono diventati fratelli sono diventati fratelli segue i fratelli che poi hanno anche il livello di sopportazione già al limite tra di loro che è quel tipo di fratellanza che ci interessano a raccontare bellissimo il contorno poi del cast è bellissimo se francesco di leva c'è cristiana dell'anna cioè cristiana dell'anna e adriano pantalevo che fanno i genitori di leva col basco di leva che è un un cattivo anomalo perché un cacco l'occhiale si e i baffi perché a un certo punto con francesco studiava il personaggio di una mora fra dobbiamo fare un personaggio il cattivo ma questo cattivo però c'è una ragione e quindi è un buono cattivo e la baffa fumettistico anche no il suo personaggio diciamo che sì perché cercavamo delle connotazioni da cattivo ma perché c'è una ragione quindi abbiamo attinto da bollywood e abbiamo messo i baffi sai che a bollywood se c'è i baffi se il cattivo e non se ne parla più e abbiamo fatto di baffi gli abbiamo dato tutte le connotazioni del cattivo ma che poi c'ha ragione c'è chiara celotto c'è greta esposito ci sono tre bambini bravissimi carmine luca antonio brev fanno la scena che è che esatto c'è fabrizio cifoni che a milano a milano quando poi le grandi no le grandi aziende si accorgono c'è un'azienda attura che può fare che fa gola a tutti insomma è un cast stupendo mi sono divertito un sacco che si vede però sicuramente mi dimentico qualcuno perché poi però è casomai lo scriviamo dopo ma avevi in testa qualche riferimento appunto il mi ha citato la i love ready rock perché mi ricordava anche se è completamente diversa però la musica i pirati quel tipo di io so non è che due riferimenti sempre quelli i miei film che ho visto da piccolo quello riferimento che si sedimenta cioè mi è entrato nell'ipotalamo e c'erano lì e sempre e poi l'evoluzione va deriva dal dai fi che vedo di recente cioè vedo un sacco di cose attingo mantingo volte inconsciamente si si no ma sciacallo così senza cioè mi rendo conto volte che vedo dei film tarantino e siamo non vedo dei film che dico ma adesso questa l'ho copiata da qua allora sapete dopo dopo no all'altra volta mi sono rivisto avatar prima di andare a vedere il tuo e c'erano abbattuto di un mio film occupato da qua che ti era dentro dove devo tornare a casa per c'erano perché talmente mi piacciono le faccio mie le altre invece sono citazioni volute e pieno di riferimenti ma qual è quelli che ti sono sedimentati in ipotalamo a tutti i film tutta quella di 80 tutto lo spilberg anni 80 90 ma tutta la commedia di 80 90 prima stavamo giù a vedere beatle giuis bellissimo di un'ironia estrema un film che fai fatica a catalogare anche disturbante per certe cose disturbante quando io da piccolino che loro invecchiavano alla fine che era una roba ed è ed è volgarissimo su certe cose ma non sto qua se te lo ripeti è vero pensare oggi quello che lui dice che fa che si sputa addosso ed è quello il film è meraviglioso ed è anche fa parte di quei film che sono complicati da sai che adesso ci sono tutti questi algoritmi no che per preso del computer che devono in qualche modo prendere il film e catalogarlo e come lo cataloghi di beatle giuis ed è vero non è un horror non è una roba e quindi questo è bello anche mi finisco difficile considera che l'istola delle rosse su netflix era avventura epico bizzarro perché l'algoritmo bizzarro lo faceva pazzini cosa consigliava sotto altre altre non c'erano altri netflix era esploso l'algoritmo no non mi ricordo tra l'altro se di mix barriere c'è un passaggio che secondo me anticipa di fatto quello che poi è successo quando r dice ma se avanzano 15 minuti io posso mettergli qualcosa che è esattamente quello che fa no cioè tu vai su spotify ascolti simple mind se ti escono ogni due o tutta no amanti new wave lui è un precursore ovviamente involontario di pratica per l'estrema sintesi per spiegare lui copiava dai 33 giri esatto e e marcava sempre un pezzo perché sì perché era qua a 45 minuti che era il grande dramma anche noi il mio mi ricordo che rimanevano queste rimanevano 15 minuti di una cassetta di un'ora ma di tirare avanti fino alla fine esatto e lui la riempiva con dei gusti con con delle cose che potevano piacerti che lo so io comprare la cassetta degli u2 c'erano pulire da cili peppers nel film si dice duran duran spandau basse e e quella roba lì tu che lui ti diceva questi sono ridotti se ti piacevano te li andavi a comprare pure quelli oggi questa cosa è appannaggio di un algoritmo all'epoca era appannaggio di eri e della sua componente umana in qualche modo esatto anche in questo è stato anticipatore sentisi di quanto è cambiato il tuo modo di girare in questi anni è più facile oggi ti diverti di più c'è meno ansia oppure no ma non ci ho mai avuto tanto particolarmente ansia no non ci ho avuto ansia però cambia il modo di girare più che cambia in senso cambia rispetto al film è diverso ogni film va affrontato in una maniera diversa ogni film ha difficoltà completamente diverse venivo da un film logisticamente complesso lunghissimo questo qua era un film da affrontare di pancia dovevi stare vicino agli attori dovevi creare empatia dovevi immergere le persone in un in un mondo e che ho visto che credessero in quel mondo però ci sono veniva da un film fatto negli anni 60 che è un'epoca che non ho vissuto e quindi in qualche modo te la devi un minimo andare a studiare e quindi fai tipo vari mesi di studio dagli anni 60 e poi come studi vedi film degli anni 60 e quindi di fatto tu fai una trasposizione fai sempre la tua versione di quella roba lì qui hai studiato dalla vita è uno testimone oculare e quindi anche se di stare lì a guardare lì a pensare a concentrarmi a cercare di ricordare con valerio azali per esempio il diretto della fotografia con valentino taviani che ha fatto i costumi cercare di capire com'erano gli anni 80 all'inizio avevo preso una deriva secondo me poi dopo un po' abbiamo detto no ma è strano cambiamo tutto perché era verso i videoclip degli anni 80 quindi pop e invece diciamo ma no ma gli anni 80 su grigi io mi ricordo grigio tutto grigio e poi c'erano questi colori che si sono estinti verde ma stanno tornando di moda mi fanno notare fluo dei fluo strani ma rimangono comunque brutti e senza questa cosa si può dire però tra l'altro la tv ogni tanto entra avete fatto l'effetto televisivo c'è anche zio greggio in certo punto che appare il drive in c'è il prezzo è servito ciò che il prezzo è giusto con la sigletta è l'emblema del consumismo di quegli anni c'è una trasmissione dove tu devi indovinare quanto costano le cose ma ma che cazzo se ci pensi ma eppure era bellissimo tutti ci abbiamo in testa la letta la sigletta e ed era loro che cominciava col pubblico che selezionava e loro erano felicissimi ti ricordi gioca con noi e loro erano contentissimi che bello devo indovinare quanto costano le cose pensarci oggi forse è proprio un'altra un'altra epoca è un'altra età senti stili qual è il tuo film il tuo cult il tuo film da isola deserta che si sceglie 1 1 1 questa sera devi andare su isola deserta e che mi porto una bella domanda e non lo so c'erano vari mi piace sì forse proprio che operazione nostalgia totale forse il mio film che rispetto a questo ci siamo detti e che è incastrato roger rabbit se ci pensa a la trama di quel film lano allora rimetto sempre nei panni dell'autore a un certo punto lui veniva da dei grandi successi la pietra verde futuro e diceva beh qual è il prossimo film intanto faccio ritorno al futuro di tre ma certo e poi ovviamente siamo arrivati a fare quello che voleva vorrei fare un film adesso penso a questo produttore delle measure certo certo dimmi un po la trama di che parla allora è la storia di un investigatore privato alcolizzato alcolizzato perché gli è morto il fratello si della città ma bel dramma mi piace penso il produttore dice mi piace dramma e mi è morto il fratello e loro diciamo a gravare una cosa lui fa parte della valiant e valiant perché non indica ed è arrivato in valiant e quindi salire ha problemi con l'alcol nella los angeles degli anni 40 50 e forse 40 subito post proibizionismo mi piace e e poi a un certo punto lo chiamano perché c'è un industriale che sta con l'amante e l'amante è un cartone animato che per la moglie di un coniglio che incontra no ma è una roba bellissima da piccolino a me mi sembrava è anche complicato anche quello un film e per oskins e dopo questo fai di oggi che faceva sì il giudice la moglie alle cose a scarpe faine no ma è fatto veniva di rivedere la parte che non è invecchiato di un giorno perché quella tecnologia lì e poi c'erano tutte le proprietà intellettuali al da baffo rosso sam alla disney alle cose i personaggi fantasia e poi va a ridere che su tipo degli attori e betty boop che il bianco e nero ha perso il lavoro e la cameriera grandissimo film quindi mi piace ragazzo per rivedere una cosa stupenda senti ultima domanda e quelle facciamo sempre quello corner noi ci piace farsi giochini domani sera cena casa tua io faccio cameriere può invitare quattro persone da napoleone a boboskins a a ok che mangiamo perché voglio la pizza da allora a personaggi storici di chi vuolque ma anche allora ai personaggi storici i miei preferiti ma anche registi certo quello che vuoi da e nobbiamo i registi li becchiamo qua grazie la speed berg stile bene sarebbe cenarci però sì se potessi però scegliere farei tipo magellano e ferdinando magellano mio libro e poi citano poco per lui ha fatto un giro lo citano pochissimo cioè lui all'ombra di colombo praticamente poverino no no sia l'ombra di colombo però no no però stiamo parlando colombo ma con tutta la simpatia come cinema è uno che giallano che film ha fatto su magellano io lo no è un problema è una grande ferita e la colombo era uno che si era perso intanto dice ma dove cazzo siamo qua questa è la cina è passato la storia questa è la cina sono sicuro che la cina la cina perché lui doveva da in cina poi ha sbagliato ha fatto quindi inconsapevolezza totale però abilissimo nel marketing stampa benissimo magellano si è venduto molto male molto male ma è stata la prima persona che ha circolato il globo a viaggiando anche nel tempo perché hanno scoperto lì che dice ma perché cazzo siamo un giorno indietro per usare ad armare a sotto il sole fili a sfoghe tutto il resto un viaggio stupendo e quindi mi piacerebbe raccontare bello magellano bello parlare con magellano capo tavola magellano magellano proprio era con nerd per certi versi quindi mi piace tantissimo e poi che ci pentiamo ci mettiamo tutti i grandissimi della della storia mi piacerebbe a quindi pensiamo la cena storia magellano i grandi poi napoleone no è troppo fascio uno meno fascio maria ma gli piacerebbe maria antonina ma l'antonetta vabbè comunque tutti quelli che ha fatto la biografia leggetevi le biografie di sbagli che sono bellissime ma è anche sbagli allora e sbagli anzi no via gli altri solo sbagli così mi parla degli altri perché non mi interessa tanto la come erano realmente che poi magari mi deludono anzi no sbagliati e sbagliati e sbagliati perfetto mix baiera al cinema grazie 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 a tutti grazie magellano grazie in quelcino grazie grazie grazie